CINEMATOGRAFICO 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 Mano a mano che sono andata avanti in questi anni ho capito che quello che mi piaceva di più realizzare era proprio disegnare e poi realizzare gli abiti. Quindi piano piano mi sono andata a specializzare nella moda fino a che poi ho fatto uno stage da Ferragamo e concluso questo stage parlando con Federico che è lui che mi ha un po' spronato. Quindi abbiamo deciso di cofondare insieme questo marchio e adesso questa è la terza stagione che presentiamo. Tutto quello che noi realizziamo è made in Italy, quindi tutte le stoffe sono italiane, sono prodotte in questo piccolo laboratorio vicino Roma che è di nove sarte, quindi diciamo che è quasi un sartoriale. E poi siamo due giovani che hanno deciso di aprire una piccola azienda e quindi è questa la cosa. Cerco sempre di, in tutte le mie collezioni, vestire delle donne eleganti e quindi c'è sempre questo bon ton che si ripete ma che poi è declinato in vari modi. C'è questo piccolo accenno agli anni 90 all'interno della collezione, c'è questa attenzione alla texture dei tessuti. Il punto centrale, quello più importante è appunto questa stampa che ho realizzato, che vediamo qui dietro, che è un muschio che mi sono divertita io a lavorarlo sul computer. È un po' più optical, quindi è una cosa un po' particolare all'interno di questa collezione ma credo che dia il carattere un po' a tutto. È proprio da lì che parte poi il discorso della natura. Grazie a tutti. Grazie a tutti.